Quello tra Giorgio Avola e Chambley Watson, nulla di fatto, 0-0 Parte Avola, porta l'attacco, 1-0 per l'Azzurro Chambley Watson non pensava di aver parato, invece no, secondo l'arbitro Sulle altre pedane, 2-0 di Ma contro l'Egiziano Hyad Sulla carta un match senza storie, 1-0 di Kubinic sul Russo Cervisino 2-0 di Avola su Chambley Watson Invece ancora 0-0 sulla verde tra Fugino e il francese Lefort Vediamo quale sarà la ricostruzione in prima battuta dell'arbitro Che vuole spontaneamente andare a rivedere l'azione al video arbitraggio Conferma la parata e la risposta di Avola, quindi 3-0 per l'italiano Si riprende Ancora la stoccata di Avola, 4-0 Poco da dire per presentare Chambley Watson Se non per l'appunto il titolo mondiale Vinto, 5-0 di Avola Con migliore il suo maestro che adesso gli dice Occhio, ragiona, sempre Si riprende Dicevo di Chambley Watson 6-0 Di Avola Che ha iniziato decisamente bene Ma il percorso è lungo Chambley Watson che ha all'attivo la medaglia d'oro A 6-1, la medaglia d'oro a Budapest ai mondiali Il bronzo ai campionati panamericani a giugno E poi in questa stagione Ha avuto Si è fermato per due volte nei 32 E per una volta nei 64 Non ha sicuramente brillato in questo inizio di stagione Ma Difficile da dire Intanto arriva la stoccata netta di Avola 7-2 Chambley Watson però dice all'arbitro Che è avvenuta in Con il ginocchio di Avola a terra Vediamo se L'arbitro conferma Quindi 7-2 I due quest'anno non si sono mai incontrati Si sono incontrati soltanto lo scorso anno Nel tabellone del 64 A Budapest proprio Tanto Avola e Chambley Watson si abbracciano ovviamente Involontariamente Avola è scivolato andando corpo a corpo con lo statunitense Poi ha chiesto scusa ma ovviamente sono sanzionato con una medaglia con un cartino giallo Dicevo proprio nella gara che ha visto Chambley Watson attiravano fare Il suo percorso di gara inizio proprio contro Avola Che adesso si porta sull'8-2 E a vincere fu lo statunitense con una contestatissima stoccata del 15-14 Che fu vista e rivista e ancora rivista più volte al video Una stoccata che da più parti hanno interpretato come un'azione d'attacco portata ad Avola Ma l'arbitro di quell'incontro invece non era dell'avviso di tanti Avola quindi ha il dente avvelenato e confronta di Chambley Watson A questo avvio d'assalto lo testimonia 9-2 Poi l'arbitro dall'alto per l'inversione Sulle altre pedane Kubinic avanti 6-3, 6-4 su Cerimidino va 10-2 di Avola su Chambley Watson 8-5 invece il vantaggio di Masu Hayad 4-1 il vantaggio di Lefor sul cienese, sul giapponese scusate Fugino Ma rimaniamo concentrati sull'assalto degli italiani 10-2 Largo vantaggio di Avola Ma nessun verdetto viene messo se non dopo la stoccata numero 15 Si gira, si volta Chambley Watson e viene sanzionato con un cartellino giallo Poi si scusano i due, tra l'altro sono anche amici Chambley Watson statunitense di New York Avola italiano-siciliano L'attacco è simultaneo secondo l'arbitro Tutti e due fanno la stessa cosa con lo stesso tempo Secondo Chambley Watson no invece E quindi chiede il video Vediamo la decisione dell'arbitro Che va a consultarsi con il suo collega delegato Per l'appunto al video refri L'arbitro conferma nulla di fatto sul piano delle stoccate Rimane una sola possibilità di richiesta di video Per quanto riguarda Avola Per quanto riguarda Chambley Watson Due ancora in mano ad Avola Che conduce per 10-2 Ancora l'azzurro Che però il suo attacco viene parato E risposto in bersaglio non valido Dallo statunitense Che adesso segna la stoccata Della 10-3 Rivarte Chambley Watson in attacco Subisce l'attacco ma in bersaglio non valido Da parte dell'azzurro 10-3 a 1 minuto e 11 Dalla fine del primo parziale di gara Parte Avola che poi colpisce il bersaglio valido Il corpetto elettrico di Chambley Watson Ma con la testa Deve sistemare il suo fioretto lo statunitense Intanto sulle altre pedane 11-9 il vantaggio di Masul L'egiziano sempre più sorprendente Ayad 8-6 il vantaggio del ceco Kupnic Sul russo Cermisinov 8-1 invece il vantaggio largo Del francese Lefort sul giapponese Fujino 10-3 il vantaggio di Auer Su Chambley Watson Ancora la parata e risposta che subisce Avola Che adesso vede il suo punteggio Il suo vantaggio Essere di 6 lunghezze Si riprende 40 secondi alla fine del primo parziale Impara l'attacco Avola Rimane lì il ferro Dello statunitense E poi ancora il campione del mondo Metta 6 nella staccata Il 10-5 Con il maestro migliore E' il CT Cipressa che si rivolgono ad Avola Dicono stai calmo tranquillo Ragiona Riprendi il tuo cammino E si va al minuto di pausa Quindi a questo punto allarghiamo l'inquadratura Mentre Avola va a dialogare con il suo maestro migliore E ci spostiamo sulla pedana gialla Dove il cieco Aleksandr Kupnic Poco più che ventenne E' in vantaggio per 11-6 Sul russo Ceremisinov Vediamo se Il vantaggio sarà di 12-6 No, non è così Perché secondo l'arbitro E' il russo Deve avere precedenza d'attacco Quindi il bersaglio non valido Quindi nessun tipo di Stoccata valida Kupnic però Chiede il video arbitraggio L'arbitro va a rivedere Con Il suo Collega Gasper Armata Italiano Kupnic che tra l'altro E' portacolori della Repubblica cieca Ma Si allena e vive a Livorno Al Fides Livorno Quindi c'è qualcosa di italiano In questo In questo assalto Riprende il match Sulla pedana rossa Tra Avola e Chambley Watson E noi Ritorniamo quindi Su quella 10-5 Il punteggio In favore dell'italiano Che si era portato avanti Anche di 8 lunghezze 10-2 Va in bersaglio non valido Il fioretto di Chambley Watson Sul gioco di ferro Va a colpire Il Mano armata Ancora Rimane sul fronte d'attacco Chambley Watson Con Avola che prova a guadagnare centimetri Prende l'iniziativa Avola e sigla La stoccata Con questa bella Controparata risposta Dell'11-5 11-5 Lo statunitense Intanto il francese Lefort Proda ai quarti Dove sfiderà Per salire sul podio 12-5 Per Avola Dicevo Lefort Sfiderà Jopic Il tedesco Per salire sul podio 12-5 Per Avola Nell'assalto dei 16 Contro Chambley Watson Non va L'attacco di Avola Né tantomeno Tentativo Di Chambley Watson Che va in Barcellion Valido Ancora 12-5 Quindi Poi il corpo a corpo E nulla di fatto Arriva l'alta Prima della Stoccata Ovviamente Ad assalto fermo Messa da Dall'Azzurro Dall'Azzurro Ma in Bersaglia Ma in Bersaglio non valido L'attacco di Chambley Watson La risposta di Avola Non è sul tempo Diciamo Non è in quella frazione Di istanti Che può permettere Di rivelarsi valida Ancora Bersaglio non valido Colpito da Avola Avola Con molta calma Lascia che sia L'avversario A provare A Sbilanciarsi E arriva La Stoccata Il 14-5 Per Giorgio Avola 14-5 Per l'Azzurro Contro Il campione Del mondo in carica Chambley Watson Quattordici Avola Cinque Chambley Watson Che arriva Il 15-5 Con Giorgio Avola Che abbraccia Alzate Supera Il campione Del mondo Lo statunitense Miles Chambley Watson E a proda Ai quarti Quindi ci sono Due italiani Nei primi Otto Al Grand Prix Di Venezia Sono Andrea Cassara E Giorgio Avola Andrea Cassara Che affronterà Il vincente Dell'assalto Tra il cinese Ma E l'egiziano Hayad Sulla pedana E l'egiziano E l'egiziano